Apriamo il consueto spazio dedicato agli appuntamenti con l'incontro di domani presso la biblioteca Pelandi di via Corridoni. Dalle ore 16 lettura e commento del Paradiso di Dante Alighieri a cura di Beatrice Sacchiero Gelmi. L'ingresso è libero. Ancora sabato la proposta riguarda i Jailhouse Dogs, tribute band del grande Elvis Presley. Il gruppo porterà le canzoni del papà del rock'n'roll sul palco del Paprika Jazz Club. Il concerto inizia alle 22, l'ingresso è libero. Domenica mattina nel pieno centro storico di Treviglio avverrà la rievocazione storica del miracolo avvenuto nella bassa nel 1522. L'appuntamento è per tutta la cittadinanza alle ore 10. Sempre domenica in città si tiene uno degli appuntamenti tradizionali organizzato dal Ducato di Piazza Pontida. Si tratta della sfilata di Mezza Quaresima, appendice del Carnevale, che tra sfilate e spettacoli culmina nel celeberrimo rogo della Vecchia. La partenza avviene alle ore 15 da Viale Papa Giovanni. Chiudiamo con la proiezione che avverrà lunedì sera presso la sede del Teatro Tascabile. Alle 21 viene proposta la pellicola A casa non si torna, film del 2012 di Lara Rongoni, che tratta delle pari opportunità tra uomini e donne dall'ottica dei lavori considerati tipicamente maschili. L'ingresso è libero.